salve eccoci il solito riassuntone che negli ultimi tempi sto facendo mensilmente in cui aggiorno anche le informazioni quindi non abbiamo un lasso di tempo troppo grande da una puntata all'altra in questo episodio ci sono anche delle informazioni che non sono ancora comparsi nel tg lego ne parliamo sicuramente venerdì per chi non lo sapesse ogni venerdì esce una puntata il tg lego con tutte le informazioni della settimana di quello di cui parliamo sono tutti i set che sono rumoroggiati o proprio liccati per i prossimi mesi così uno può un po gestirsi anche le spese sono ovviamente un miliardo partiamo dallo star wars ucs time interceptor 1931 pezzi 240 dollari primo maggio con una minifigure di un pilota immagino che l'annuncio potrebbe essere pensato per il 4 di maggio che è il giorno di star wars però no deve uscire in quei giorni dovrebbero fare un'uscita proprio immediata non lo so ancora non si sa niente è un po strano perché di solito si sa un po prima per gli ucs vedremo quando se ne sarà di più punto della situazione sulle guadias il gatto 1710 pezzi 100 dollari uscirà a giugno il set dedicato allo squalo film uscirà ad agosto saranno 1497 pezzi quello dedicato a nightmare before christmas 21351 il set sono 2193 pezzi in uscita a settembre 2024 non si sa niente dei set dedicati a twilight e botanical garden mentre sappiamo che il set 21352 disney magic una sorta di omaggio al mondo disney 1103 pezzi uscirà ad ottobre 2024 quest'ultimo è uscito da un concorso non proprio da le guadias classico sempre da disney abbiamo un simba build double 1353 pezzi 100 dollari male efficient dragon diorama 1250 pezzi 100 dollari di questo sono uscite delle info ma sono ancora un po troppo vaghe un donald duck paperino build double 100 pezzi 100 dollari da rivedere il numero dei pezzi perché non torna mai nella vita e ne sapremo di più set super interessante quello dedicato all x man mansion 76 294 300 dollari 3093 pezzi in uscita a novembre avrà 9 minifigure professor x wolveri magneto ciclope emma frost storm beast mystic e un'altra che non si sa chi sia come vedete rispetto all'episodio del mese scorso se ci sono state delle informazioni su alcuni set le ho aggiunte e stesso dicasi per il 10 333 dedicato a baradur ovvero l'occhio di sauron diciamo uscita il primo giugno sarà la 33 inch per 18 largo la base 5471 pezzi 460 euro in uscita al primo giugno minifigure sauron la bocca di sauron nazgul frodo sam gollum e quattro orchi due per colore diverso lego 1970 pollo moon rover 42 182 sarà un technics a 250 euro non sappiamo ancora che data di solito i technics fanno l'aggiornamento preestivo quindi potrebbe essere prima dell'estate sempre lato nasa abbiamo il 10 341 non un technics invece sarà l'artemis one rocket con il launch pad 3601 pezzi in uscita 15 maggio a 260 dollari come vedete i prezzi ve li do in dollari perché questi sono i leak che arrivano tendenzialmente il cambio è uno a uno cioè 260 dollari si trasformano in italia in 260 euro e questo nel 99 per cento dei casi monalisa 31 213 1503 pezzi 100 dollari in uscita a giugno non avrà minifigure e vabbè è normale no perché quella di van gogh inizialmente l'aveva e poi non hanno smesso di metterla 31 2 1 2 la via latte ha sempre art 3091 pezzi in uscita a maggio 200 dollari questa me la immagino un po più art vecchio stile pezzi uno per uno vizella deve uscire il grande albero d'ecu 2500 pezzi a settembre però non si è visto non si sa e quindi aspettiamo prima di andare di ottimismo insomma mi sembra una scelta un po boh un po dovrebbe avere due forme con le due stagioni però insomma avrei scelto cose migliori da parte di nintendo di lego harry potter 76 437 deve uscire deburro che sarebbe la casa della famiglia quella con i capelli rossi che adesso non mi ricordo il nome perdonatemi 2405 pezzi in uscita il primo settembre di lego star wars info molto vaghe al momento sul jabba sailberge 75 397 perché sono arrivati due conteggi di pezzi e due cifre molto distanti un po distanti tra loro 3942 pezzi 500 euro in uscita il primo ottobre come dicevo voci anche diverse queste sembrano le più attendibili minifigure jabba r2 d2 c3po max ribo clatu bib fortuna gamori angard hat slayer leia e salatius crumb in più per chi acquisterà questo set ci sarà in omaggio una spada laser di luke skywalker come gift with purchase da marvel deve uscire un helicarrier midi scale un po come sono usciti i set di star wars 509 pezzi 60 dollari non si sa data sicura invece la milano dei guardieri della galassia 76 286 170 dollari in uscita ad agosto 2090 pezzi all'interno ci saranno star lord gomora groot rocket raccoon e drax quindi tutta la famiglia dei guardieri della galassia ad agosto uscirà anche un buildable c3po 150 dollari non si sa conteggio dei pezzi super atteso un architetto del 2024 importante la cattedrale di notre dame 4383 pezzi 230 dollari in uscita il primo giugno attesissimo da me il 4271 la supercar di quest'anno esce una ogni due anni la mclaren si sa che una mclaren non si sa ancora la macchina 3893 pezzi 450 dollari in uscita ad agosto che è un po diverso dal solito perché di solito queste uscivano a giugno deve uscire una serie di minifigure su dungeon and dragon questa già annunciata si è anche vista in realtà liccata l'avete vista sicuramente nel tg lego forse anche qua ho scelto l'immagine 12 pezzi in uscita a settembre 2024 di minecraft uscirà il primo set 18 più che sarà il 21 265 crafting bench cioè il banchetto quello in cui si craftra 1191 pezzi 90 dollari in uscita ad agosto 2024 all'interno ci dovrebbero essere dei piccoli mondi un po come funzionava con il cubo di nintendo lego fornite avremo diversi set da 30 a 120 dollari il banana set si sa che sarà invece un 18 più quindi pensato un po per costruzioni un po più adulte 10338 tornano i transformers con bumblebee 950 pezzi 90 dollari in uscita il primo luglio da technics 4277 la mergete scg 500 4x4 2891 pezzi 250 dollari in uscita il primo agosto siamo vicini alla fine questi sono i rumor appena arrivati uno super interessante anche per me che è il 76328 la batmobile classica della serie tv quindi quella proprio storica di cui è già uscito un set lego più piccolo questa avrà 1822 pezzi 150 dollari sarà uscita il primo ottobre avrà una placca e una minifigure di batman a livello di prezzo e numero di pezzi sembra andare più nella direzione dei creator della serie quella delle macchine che ne escono un paio l'anno però 1800 pezzi in realtà potrebbe anche andare sulla serie delle supercar di batman le batmobili che sono uscite vediamo cosa ci tirano fuori sono una macchina molto attesa da me mi sembra impossibile che in futuro non esca anche una batmobile della serie animata di queste dimensioni visto che esce la piccola quest'anno da icons 10334 si sa che sono 906 pezzi uscita giugno a 110 dollari non si sa ancora con certezza cosa dovrebbe essere i rumor vanno nella direzione di una radio retro cioè una radio antica di una volta che comunque accetterei con grande 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 interesse è tutto per questo episodio cercherò di farlo ogni mese come al solito fatemi sapere nei commenti se vi interessa se vi è utile perché a me per esempio questo format serve anche per ricordare tutto quello che devo spendere quanta roba deve uscire collego è sempre difficilissimo farlo perché i loro annunci sono molto imminenti all'uscita io vi ringrazio ci vediamo alla prossima ciao a tutti